95 nuovi positivi in provincia, questo è il dato secondo l'aggiornamento dell'aspenissena del 31 luglio relativo alle 24 ore precedenti. Sarebbero tutti in isolamento domiciliare. 36 pazienti di Gela, 22 di Caltanissetta, 7 di Niscemi, 7 di San Cataldo, 4 di Mazzarino, 4 di Riesi, 4 di Somatino, 2 di Milena, 2 di Mussomeli, 2 di Serra di Falco, 1 di Butera, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli, 1 di Sutera e 1 di Vallelunga-Pratameno. Un solo paziente di Mazzarino è stato ricoverato in degenza ordinaria, 2 invece di messi della stessa, cioè 1 di Caltanissetta e 1 di Butera. Guariti dal Covid-19, 57 pazienti di Gela, 47 di Caltanissetta, 20 di Niscemi, 11 di Riesi, 8 di Mazzarino, 4 di San Cataldo, 3 di Milena, 2 di Mussomeli, 2 di Santa Caterina-Villarmosa, 2 di Somatino, 1 di Campofranco, 1 di Montedoro, 1 di Serra di Falco, 1 di Vallelunga-Pratameno e 1 di Villalba. L'incremento rispetto al giorno precedente, invece, dei casi totali in tutta Italia è pari a 36.966 casi e per la sola Sicilia 2.042. Questo secondo il bollettino dei casi Covid del 31 luglio, scaricabile dal sito del Ministero della Salute.